È stato svelato quest'oggi presso gli studi di Dazzona Cologno-Monzese il calendario della Serie A, 23-24 che avrà inizio nel weekend del 19-20 agosto e si concluderà il 25-26 maggio 2024. Per questa stagione è previsto un solo torno infrasettimanale, che si giocherà il 27 settembre, mentre saranno quattro gli stop per le nazionali, il 10 settembre 2023, il 15 ottobre 2023, il 19 novembre 2023 e il 24 marzo 2024. La sequenza delle gare andata e ritorno non combacerà, dando vita a 38 giornate completamente diverse le un dalle altre. Non cambiano inoltre i criteri di compilazione. Non potranno esserci partitissime tra le prime sette dell'ultimo campionato, Napoli, Lazio, Inter, Milan, Atalanta, Roma e Juventus, in queste giornate, prima, seconda, quinta e sesta, torno infrasettimanale e quello che lo precede, 19esima visto che subirà i rinvii delle gare per le squadre impegnate nella final 4 di Supercoppa Italiana e in Arabia Saudita, che dovranno essere recuperate in infrasettimanale, e 38esima. Queste preclusioni valgono anche per i derby Inter Milan, Juventus Torino e Lazio Roma. Nella categoria rientrano anche Empoli Fiorentina e Napoli Salernitana. Tra gli altri criteri di compilazione del campionato ci sarà l'obbligatorietà di non disputare i derby nelle medesime giornate. Niente Lazio Roma e Milan Inter nel medesimo weekend. Non saranno permesse più di due gare consecutive disputate in casa o in trasferta. Inoltre, Lazio e Roma, Milan e Inter, Juventus e Torino, Napoli e Salernitana, Fiorentina ed Empoli avranno un'alternanza assoluta e non giocheranno mai in casa o in trasferta nel medesimo turno. Un'alternanza assoluta e non giocheranno mai in casa o in trasferta nel Grazie per la visione! Grazie per la visione!